A scuola con la Guardia di Finanza al via la seconda edizione del progetto Educazione alla legalità economica. È partito dall'Istituto Superiore Vivarelli di Fabriano. L'intento è far mutare la consapevolezza del valore della legalità economica. Si parla di evasione fiscale, di sperpero di risorse pubbliche, falsificazioni, ma anche di uso e spaccio di sostanze stupefacenti. All'iniziativa è abbinato un concorso denominato Insieme per la legalità che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani tramite il coinvolgimento delle scuole sul valore civile ed educativo della legalità economica. A conclusione di questo primo incontro che si è svolto a Fabriano, è stata svolta anche la dimostrazione di un controllo da parte di una unità cinofila antidroga del Comando Provinciale di Ancona.